Buongiorno amici, ho rifatto un altro video, un video, mi avvicino al microfono, che ho fatto tanto tempo fa, anzi no, credo lo scorso anno, il Pan dei Santi. Anche questo è stato fatto insieme al gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre, però ero all'inizio e quindi era venuto un po' così da principiante, diciamo, scritte troppo veloci, musica troppo alta, eccetera, quindi l'ho tolto e adesso vado a rifarlo. Bene, andiamo a vedere questo video insieme, ciao! Bene, mi sono preparata tutti gli ingredienti, eccoli qua, li trovate scritti in descrizione all'inizio, io ho soltanto usato i licoli invece della pasta madre solida, quindi ho cambiato leggermente la dose. Ok, l'impasto lo farò a mano, miscelo le farine con il sale, il pepe, lo zucchero, e poi piano piano unisco i liquidi, sciogliendo la pasta madre in acqua, poi unisco il burro con l'olio e poi verso tutto nella ciotola. Per ultimo lascio le noci e l'ovetta, eccolo qua, questo è il mio licoli, lo sciolgo lo stesso con l'acqua come dice la ricetta, anche se con il licoli potevo metterlo direttamente così. Questa ricetta è di Gianni Righetti, la trovate nei file di Nuvola Un Amore di Pasta Madre, è un pane che di solito si fa in questo periodo, il pane dei Santi, si chiama così, ma molto buono e si può fare anche in altri periodi dell'anno. Finisco di mettere tutti i liquidi nell'impasto e poi vado a mescolare con il cucchiaio. Per ultimo lascio l'uvetta e le noci che ho spezzettato, nella ricetta indica di far leggermente tostare le noci nel burro, ma io non l'ho fatto, le metto così. E adesso continuo con le mani. Impasto energicamente, in questo modo. E poi trasferisco tutto sul piano di lavoro. Ora vado a inserire l'uvetta e le noci. Forse ne ho messo un po' troppe e dovevo spezzettarle un pochino di più. Ho messo un po' di farina ma vedete che non serve. Continuo ad impastare. Ok, ci siamo quasi. Bene, io direi che basta. Ecco qua, il panetto è pronto. E queste noci che scappano le rimetto dentro. Ora metto l'impasto dentro un contenitore. Lo copro con la pellicola e lo lascio lievitare tutta la notte a temperatura ambiente. Ed eccolo qua, la mattina dopo lo trasferisco sul piano di lavoro. Non è cresciuto tantissimo, devo dire. Però vediamo adesso la seconda lievitazione. Lo divido in quattro, ci vengono quattro panetti. Meglio farli piccolini. Ok, li abbasso, li abbasso, li pirlo un pochino e li abbasso. Così. E sopra ci faccio una croce. Così serve anche per controllare la lievitazione. Una volta pronti, li adaggio su carta forno, sopra la teglia. Ok, finisco. Li copro con pellicola ed ora li lascio lievitare ancora. Tre, quattro ore, dipende molto dalla temperatura, quindi regolatevi voi. Una volta pronti vanno cotti a 180 gradi per una mezz'oretta, 20-25 minuti, mezz'ora. A me ci è voluto all'incirca 35 minuti più 10 minuti che ho lasciato a spiffero. Li ho spennellati con il tuorlo per lucidarli ed eccoli qua. Il profumo è buono. Ora aspettiamo un attimo che si raffreddino e tagliamo. Vediamo la fetta. Beh, io l'ho già assaggiato, ne ho aperto uno ancora caldo, ma è buonissimo. Anche a mio marito è piaciuto tantissimo, penso che li rifarò. Ve lo consiglio amici, fatelo perché questo pan dei santi è veramente buono, ma in qualsiasi momento dell'anno, non solo, anche a Natale ad esempio. Bene, vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!